Il rispetto che sono presenti, il valice del fuoco del vostro, diciamo che non è così scontato un sabato sera provare a questo tipo e vedendo questa importante partecipazione questo sarebbe abbastanza per dire quanto è importante questa sera, emergenze che sicuramente avete fatto in questi giorni, collaborazione con le... ...la relazione tra di voi che poi ti proverete si capisce, quindi io credo che vada fatto un ringraziamento a chi l'ha avuto, grazie e buona sera. ...presso l'incanto della protezione di Cine di Marchio, è stato un momento per tutti noi, per il sorriso e questa piacevolezza di scala a sene, sicuramente... ...la gestione del supporto che siamo continuati a tornare in Romagna, che il lavoro fatto, la scuola proposta di Cine, che sia risultato, per io mi seguire, salendo dal partito, al contratto... pertanto grazie anche a voi di prendere in carico di questo... ... grazie a tutti 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 grazie a tutti